Sì, adesso sono tranquilla, è evidente che all'inizio quando l'ho saputo, appena l'altro ieri, mi sono spaventato un attimo, poi ho capito, mi hanno raccontato come sono andate le cose, devo dire che essendo queste lettere state intercettate dalla polizia e avendo piena fiducia in questa istituzione mi sento tranquilla.